Buongiorno Dito, Dito scusate se stessa una cacca Angelo Bu piccolo scculo tranquillo senza io magari senza il balcone neppone eh a te la puccia di ala avete ragione scherzato si ma io sono esasperato il medico mi dice riposo assoluto silenzio i tre gruppi gioce a me a dos appiccicare tutti rompureranno ma da vai dai rubi dai 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 bravo bravo eh bravo eh bravo eh bravo eh e ogni tanto fai un po' carizzo bravo nooo nooo calma da sta sondita eh ma cosa dice? ci amico ci spiega la rosa si 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 una giornata sana, fino a quando mia moglie non si saluta con la signoria della televisione. E' finalmente carne, sì, dolce, no, piena di steve. E' finalmente lì quando l'ubbito, no? E' il nipotito, attento a te. E' necessario pure il nipotito, c'è stato. E' sposato? E' sposato? Sì. Vive con me a casa? Sì, vive con voi. E' un po' di carà. Ma quando mi hanno raggiunto, mi hanno detto che non mi hanno detto, ma stai facendo una ciscera. E' un po' di carà. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.